Intervento a tutto tondo della Premier Giorgia Meloni al Festival delle Regioni a Torino, non senza momenti di tensione tra manifestanti e polizia. Nella giornata conclusiva il Presidente del Consiglio ha voluto ricordare come l'Italia sia un mosaico di territori dalle potenzialità straordinarie. Ogni territorio può contare su energie e risorse estremamente importanti che meritano di essere conosciute, valorizzate e messe in rete. Nessuno deve essere lasciato indietro, si vince e si perde tutti insieme. È questa la ragione per cui il Governo ha deciso, continua Meloni, di dare impulso alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e prendersi cura di quei territori che oggi sono a rischio spopolamento. Una leva straordinaria per colmare divari tra aree interne e grandi città. Coste e montagna è quella di utilizzare al meglio le risorse nazionali ed europee. Sul PNRR dal 2021 non ha dato alle regioni il giusto peso. Dobbiamo riuscire a spendere al meglio tutte le risorse perché non ne abbiamo molte, perché ci sono moltissime cose da fare ed è importante lavorare tutti assieme. Accordi di coesione sono frutto di un lavoro di squadra. Vengono sottoscritti dal Governo nazionale e dalle regioni e interessano priorità che devono essere condivise, cioè le proposte arrivano dalle regioni ma per essere finanziate devono sapere rientrare in una strategia complessiva di sviluppo. Inoltre, prosegue Meloni, gli accordi prevedono un meccanismo automatico di definanziamento per le eventuali risorse che non vengono utilizzate, cioè laddove non vengano rispettati i tempi laddove le risorse rischieranno di andare disperse.